Il colore è giusto, gli accessori anche, è cominciata l'estate, venite a provarla con noi. Limited Edition numero 1171, specchietti reclinabili, autoradio con caricatore 6cd, aircraft, comandi al volante per la telefonia, sedili riscaldati, computer di bordo, sensori di parcheggio, ESP, cruise control, bluetooth, battitacco Mercedes, interno in pelle nera con cuciture rosse, cerchio in lega da 18, capote elettrica, Grazie a tutti! L'estate è già iniziata, deciditi a passarla in SLK.